Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Perché è così buio? Qualcuno ha spento la luce? Ma le pagate le bollette qua? Ma dove sono? Tempo di caduta Ehm... Ok, credo di trovarmi in una mappa dropper Vediamo, scopriamolo insieme cliccando questo pulsante Oh mio dio, dove mi sta portando? Wow, 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 cosa? Che figata! Ok Calma, 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 calma Io non ho mai giocato una mappa dropper del genere Cosa c'è? Tipo il... Ma scusa, ma se non posso vedere giù come faccio? No, no, mi devi dare un secondo di tempo Se io non riesco a vedere dove sto scendendo Come faccio a scendere? Ce l'ho fatta Oh, ciao Chi sono? Sei Broziest, il creatore della mappa E benvenuto in Drop of Time La vita è veloce, le cose possono andare velocemente Aspetta, piano, scrivi più piano Non riesco a leggere e tradurre al tempo Vabbè, senti, ok, scrivi quello che vuoi Va bene, vai, sì, ok, fai come vuoi tu Va bene, tanto non ho letto neanche una parola Di quello che stai scrivendo Ok, ci vediamo un'altra volta Oh mio Dio, dove sono finito? In paradiso È tutto così bianco, è tutto così Credo di essere finito in paradiso, ragazzi Sì, sono decisamente in paradiso Comunque abbiamo superato il livello numero uno Oh mio Dio, cos'è successo? Che figata di effetto è? Io non ho mai giocato un dropper così strano Guardate, è tutto quanto bianco Ok, devo cercare di cadere Sì, ma come fa? Ma scusa un attimo Hai messo un po' troppi ostacoli Non credo sia possibile Riuscire a cadere giù Vai, io ci provo Oh, oh, oh Come faccio a completare questo? Vai, 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 vai Nooo Mi raccomando, lasciate un bel mi piace Per questo dropper super hyper mega strano Perché potrebbero esserci altri episodi in futuro No, di certo non così, ecco Così non ce ne saranno neanche Non ce ne sarà neanche uno di episodio Vai! È tutto troppo bianco Non riesco a vedere a un centimetro di distanza Forse sono in paradiso Forse è per questo che continuo a morire, eh? Beh, meglio in paradiso che all'inferno, giusto? Vuol dire che sono stato bravo nella mia vita Oh, ce l'avevo quasi fatta! Dai, mancava tanto così Mancava... Vabbè, che ve lo dico a fare tanto così Tanto mica mi potete vedere Comunque mancava poco Vabbè, ragazzi Mentre io cado in caduta libera Nel frattempo ci tengo a comunicarvi Che sono uscite le nuove magliette E le nuove felpe ufficiali di Kendal Troverete il link in descrizione Per comprarle Oh, mio Dio Ce l'avevo quasi fatta Ce l'avevo quasi fatta Se non altro ho capito Che buttandomi indietro Riesco più o meno Ad arrivare quasi alla fine Sì! Ce l'ho fatta E voi! Quindi, ragazzi Se non avete ancora comprato felpe e magliette Di Kendal Beh, cosa aspettate? Livello numero due Mondo ultra galattico Ma dove sono? Sullo spazio Che figata Oh, piano, piano Wow Cosa è successo qua? Cos'è? Tipo una cometa Oh, la cometa che si è schiantata Wow Che figata Soltanto che ho l'impressione Che sarà super difficile Completare questo livello adesso Perché vedo Tanti, tanti oggetti misti Allora, io provo a buttarmi così Dai 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 Non mi poteva dire fortuna Una volta nella vita E magari azzeccavo la caduta giusta? No Non sembra troppo difficile Devo probabilmente Ignorare completamente la cometa Perché Oh, guardate Aspettate Forse ho trovato Sì? No Mi fa ridere che mi autoconvinco Ragazzi Di aver trovato Un punto in cui posso cadere Però lo è in effetti Guardate Quello lì è un punto in cui io posso tranquillamente cadere No? Sì Sì Non ci posso cadere Oh, 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 oh Che cavolo è successo? No, no Aspetta Mi sono bloccato È solo morto? Cos'è? Un doppio dropper? Non solo devo cadere giù Ma devo anche risalire Su Ma non Chiunque abbia creato questa mappa È un fuori di testa Ok Ora rimbalzo su Va bene Mi devo liberare No, 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 no Dai, 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 dai Aspetta E non ce la fa Ma no, no, no È impossibile È impossibile Cioè è veramente Ragazzi No, allora Non so se state capendo bene cosa devo fare Non solo io devo cadere laggiù Senza toccare nessun blocco ovviamente Come un dropper normale Ma in più devo anche risalire perfettamente Centrando tutti i buchi Per poi risalire quassù O lassù Non ne ho la minima idea Ma Ma neanche un pazzo sadico Psicopatico farebbe una mappa del genere Allora La prima parte è fattibile L'abbiamo già fatta diverse volte Molto bene Adesso devo cercare di risalire Perfetto Vai No Dai Ce l'ho quasi fatta No No, non mi sono bloccato Aspetta Sali No, no Non è possibile No, vabbè Ma stai scherzando? Non giocate assolutamente questa mappa Il creatore della mappa Ti sfida anche a finire tutti i livelli In meno di 5 minuti Ma neanche un pazzo fuori di testa Riuscirebbe a finirli in 5 minuti E tanto se ce la faccio io in 50 minuti Oh mio Dio Eh ma muoio lo stesso Scusa Ce l'avevo fatto No, no, no Aspetta un attimo Ma dove diavolo devo andare allora? C'ero riuscito? Ok, allora io non mi muovo Vai su Vai su Vai su Vai su Vai su Vai su Dove diavolo devo andare? Devo andare fuori Oh Ah Questa volta ha funzionato No, non ci posso credere Ragazzi Cosa? Ok, siamo sull'autobus di Fortnite A quanto pare Ma come siamo sull'autobus di Fortnite? Eh, questo è il terzo livello Quindi mi devo buttare giù Oh mio Dio ragazzi Non ci posso credere Mi devo buttare giù a pinnacoli Ragazzi voi non vi buttate con me? No? Da solo eh Ok, va bene Da solo Eh, va bene Quindi se devo atterrare Dove devo atterrare? Non qui sicuramente Non posso scendere da un altro lato? Oh, da qui Ecco Molto più semplice Forse Non lo so Oh mio Dio Ce la faccio Ce la faccio Ce la Mancava tanto così Mancava tanto così Spero semplicemente soltanto Di non dover rifare Tutto il percorso indietro Come nello scorso livello Quello non mi è piaciuto Ma proprio per niente Ok, vai giù Vai Ok Sì, 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 sì Ottimo No, dovevo prendere l'acqua Non ci posso credere Ma nei primi livelli Non dovevo prendere l'acqua Perché adesso sì Ok, sono pronto A fare la mia vittoria reale Vai Così Così Dentro l'acqua Se soltanto non avessi Un cuore Magari sarebbe anche Un pochettino più facile Non credete? Certo Ma se no Dove sarebbe la sfida? Ok No, no, no Mancava pochissimo Quindi questo è il dropper Di Fortnite Ma io non pensavo Che si stesse il dropper Di Fortnite Su Minecraft Però vi posso dire già Che non mi piace Perché sto impazzendo Lo sto facendo fin troppe volte No, no, no Non nella neve Ma porca miseria Ma è possibile Ma riesco a cadere dentro l'acqua Scusa Ero un pro un tempo Io nei dropper Ora faccio proprio schifo Questo è il livello numero 3 E io registro già da 30 minuti Quindi all'incirca 10 minuti per livello Vi rendete conto, no? Vai giù, Candy Vai Oh, no Ce l'avevo quasi fatta Non ci posso credere Ci riuscirò ragazzi Tranquilli Porterò a casa questa Vittoria Reale No Sta lì A 4 blocchi da me 4 blocchi da me Ma poi che razza di mappa è questa? Questo non è Pinnacoli Dove mi trovo? Oh mio Dio No Ma stai scherzando? L'acqua sta là No Ce l'ho riuscito Ero a tanto così Scusate se ho urlato tantissimo E probabilmente vi ho fatto diventare sordi Ma capite la mia frustrazione Qualcuno mi vuole dare una mano Vi volete buttare voi al posto mio? No, eh Ok Dai, dai, dai Ce la posso fare Sì, 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 sì Ce l'ho fatta Oh mio Dio Ok, prossimo livello 3, 2, 1 Vai Livello numero 4 Dove siamo? Siamo su YouTube Ma questo è il logo di YouTube ragazzi Ma Perché siamo su YouTube? Ok, dove devo buttarmi? No, non così di certo Aspetta che Ma non posso per una volta avere fortuna Buttarmi a caso E riuscire a farcela? No, eh Per una volta Dai, mi butto così A caso E ce la faccio Che è successo? Non mi sono buggato Ok, a quanto pare mi sono buggato Buono Buono a sapersi Così almeno possiamo esplorare Un pochettino meglio la mappa Cercare di capire dove devo cadere Forse qua Oh No Vai così Così, così, così Niente ragazzi È più forte di me fare schifo i dropper Non ci posso fare nulla Tadà Vai giù Non so neanche dove devo atterrare Non so se c'è dell'acqua Se devo atterrare sull'erba Non ne ho la minima idea Oh mio Dio Oh sì No, 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 no Non di nuovo Non di nuovo Non di nuovo Non di nuovo Fammi salire Fammi salire Fammi salire Pian, pian No, 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 no Sì, 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 sì Vai grandi No, 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 no Non di nuovo Ma porca miseria Non lo voglio rifare No, perché No, 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 no Fammi stare giù No, no, no Ok Sono vivo Sono vivo, sono vivo, sono vivo Ci posso riprovare Eh, dove sta? Ecco Devo farcela Ragazzi, questa è la volta buona Vai giù Vai Vai Vai, 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 vai No E allora E allora è così che finisce E finisce così oggi Perfetto Bene ragazzi Io penso di non aver mai sclerato così tanto per un semplice dropper Sono qua ormai da un'ora e ho fatto soltanto quattro livelli Non ho la minima idea di quanti altri livelli ci siano da fare Però mi raccomando lasciate un bel mi piace Perché se volete vedere una seconda parte Questo video deve superare almeno i 15.000 mi piace Perché io non ne voglio fare un altro Dal vostro imperatore Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Spero vi siete divertiti Ciao Ciao